Io direi che abbiamo chiarito le cose in tranquillità. Si sente sollevato dopo tre ore di interrogatorio davanti al PM Christine Von Borris, il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, indagato per peculato riguardo alle spese sostenute a carico della Fondazione. Sono 12 gli episodi ipotizzati dalla Procura, tra questi cene, alberghi e anche il trasloco Mirano-Firenze per un ammontare di 24 mila euro, tutte spese, secondo la difesa di Pereira, funzionali alla raccolta di fondi per il Maggio. E su ogni voce di spesa il sovrintendente ha potuto dare indicazione esatta del senso di quella spesa e della funzionalità di quella spesa, che è comunque sempre legata alla raccolta di fondi per il teatro e per sostenere il teatro. Pereira non si è voluto soffermare sull'indagine della Corte dei Conti in merito ai 35 milioni arrivati dallo Stato e che potrebbero essere stati utilizzati per la spesa corrente. Il sovrintendente ha archiviato l'interrogatorio. Continua il suo lavoro di ricerca di sponsor e accusa di peculato a parte. Respinge anche quella sul piano morale dell'uso fatto dei fondi del Maggio. 50-60 mila euro di spese a fronte di circa 10 milioni di sponsorizzazioni raccolte. Non c'è niente più da dire.